Rieccoci a Forte Chiaro come ogni mercoledì la nostra anteprima dove lascio i telefoni liberi allo 0238602 359, lo vedete qua in alto, liberi di chiamarci e dire quello che volete in questa nostra scenografia un po' abarricate. Per oggi è una bella giornata, oggi il pifferaio ha dato il massimo di sé, Renzi è contentissimo perché grazie a lui l'Italia riparte, mi riferisco solo a questa notizia riportata da tutti i siti, vediamola, che riguarda il calo della disoccupazione. Ad agosto è scesa dell'11,9%, 69 mila occupati in più, in realtà questa è la parte buona, la parte buonissima ci pensa Renzi con i suoi telegiornali a dirvela che sono tutti un dire, sono il migliore, ho fatto ripartire l'Italia. C'è il dramma di tanti, tantissimi giovani che non lavorano, sono dati comunque allarmanti ma sono segnali positivi, poi qualcuno li strumentalizza, poi vedremo e chi vivrà vedrà, ma ne parleremo anche questa sera. Io però prima mi ero incuriosito di una cosa che ho letto sul Corriere e su altri giornali, me li date qui nel monitor per favore, di un sindaco, tra l'altro una persona che io ho conosciuto, ah proprio a prova di, cioè praticamente io mi riferivo a sto articolo qua, ah oh grazie, oh meno male. Allora, tra l'altro un sindaco che io ho conosciuto andando in giro per quinta colonna, molto amato dalla sua gente, leggo che ha fatto un colpo di testa, sembrerebbe, però non so se lo è, non credo. Allora, questo sindaco si chiama Domenico Crespi, ex sindaco di Sant'Angelo Lodigiano, il prefetto, lo vedete dietro la mia testa, invia otto profughi, il sindaco mi dimetto. E ancora un altro articolo, ecco, il sindaco di Sant'Angelo Lodigiano, Domenico Crespi, si è dimesso per protesta perché nel suo comune sono arrivati otto rifugiati. Allora io glielo devo chiedere a quest'uomo qui, che cosa sta succedendo e che cosa ha fatto. Può entrare per favore Domenico Crespi, perché insomma, credo rappresenti un po' la rabbia di tanti sindaci, questo sindaco qui. Scusa sindaco dell'improvvisata e grazie per aver accettato il mio invito. Allora, no no, però si fermi qua con me, non c'è problema. Allora, veniamo qua in centro, è tutto vero? Tra l'altro lei è sindaco da quanto? Io sono sindaco dal 1990. Com'è possibile tutto ciò? Spieghiamo, da la vita. È possibile perché... Primo perché ti votano e ti vogliono bene, secondo... possono aver sbagliato per quattro volte nell'elezione diretta, perché la prima nel 90 ero con la vecchia legge e venivo nominato. Poi nel 1993 c'è stata le dimissioni, avevo giurato in prefettura Milano perché non eravamo ancora a provincia di Lodi, poi due elezioni dirette 1993 e 1997, cinque anni di stop e dopo sono tornato nel 2007 e nel 2012 riconfermato. Perfetto, quindi voglio dire, se non hanno conosciuto bene i suoi che lo riconfermano ogni volta, allora, è vera sta roba qua? Che mandano otto profughi e il sindaco dice, oh io mi tolgo dalle scatole. Guardi, per la verità io non so ancora se sono sei o se sono otto, nonostante mi dicano che siano a circa 100 metri dal municipio. Allora, sono stato informato prima all'inizio di settembre che dovevano arrivare, poi si è dimostrato che questa società, Onlus, gruppo, associazione era farlocca, un'altra invece ha vinto... No, no, si fermi un attimo. Quanti profughi ci sono adesso nel suo comune? Io non ho comunicazione ufficiale, non conosco... Allora, vi rendete conto? Guardate che non è, intanto l'hanno votato duemila volte, non è che un sindaco che dice non so quanti profughi ho è un sindaco scemo, è un sindaco vittima del sistema, perché praticamente ti cacciano i profughi senza dirtelo e se hanno la cortesia te lo dicono dopo, quindi i sindaci sono delle vittime. Se nel vostro comune arrivano dei profughi, i sindaci sono delle vittime, perché non lo sanno, magari gli piace averli, non gli piace averli, ma gli piacerebbe sapere le cose. Io non conosco le nazionalità, non mi interessa il profilo nel titolo di studio, ma non conosco da dove arrivano. Mi han detto che, essendo di colore, con probabilità sono dell'Africa subsahariana, come si dice adesso, in una palazzina, assieme a altre cinque famiglie, una palazzina che è stata locata da un italiano a una onlus che ha sede a Lecce, o giù di lì. Ecco, una onlus che ha sede a Lecce, che mette i profughi a Sant'Angelo e a Lodigiano, non possiamo neanche dire che ha spirito di territorio, trova un posto utile dove affittare una palazzina per fare il business, immagino come è capitato da altre parti, e cacciarci dentro questi qui e prendersi i soldi. E scelgono il suo comune, perché trovano una struttura. Io la chiamo solidarietà penosa, per non dire pelosa. Solidarietà è quella di mettere le mani in tasca direttamente e non appoggiarsi e aspettare che uno Stato, che se le fa calare dall'alto, dica che queste persone che prima di tutto, viva Dio, bisogna salvarle e non lasciarle in mezzo al mare, vanno identificati prima che partano, vanno lasciati e aiutati a casa loro, dopodiché si affondano i barconi vuoti e una volta identificati bisogna pensare al presente, scusi, al domani e da dove arrivano, l'appartenenza. Questa è la sua ricetta, se lei fosse al governo agirebbe così. Non c'è più emergenza, sono dieci anni, signor Poletti, che queste cose girano, lo dicevo dieci anni fa. No, no, ma io la capisco e so anche che lei è coerente, incoerente al sistema dove ci troviamo. Mi dice una roba, ma si è dimesso per davvero? Sì. Non è una balla? No, la prima, come le dicevo senza essere noioso, al 4 settembre ero stato informato che dovevano arrivare. Avevo rappresentato al signor prefetto, devo dire che con sensibilità e correttezza... Lei è l'unico sindaco in tutta Italia che chiama il prefetto signor prefetto, però vabbè, dai. Io rispetto istituzionale, guardi, su queste cose quindi sono tornato e come avevo detto in quel luogo che era stato indicato al 4 settembre non era possibile affittare, ho parlato col padrone di casa. Quella associazione, quel gruppo non aveva i requisiti e quindi non se ne è fatto niente. Successivamente al 18, sempre il signor prefetto, che è una signora... Datemi anche qualche immagine di profugo, regia. Va bene che il sindaco non li vuole vedere, ma per il sistema... No, perché non li voglio vedere? Non è vero, guardi, non è vero. Non mi metta delle cose che non è vero. Cioè, stavo dicendo che... Cercavo di rimproverare i miei... Il 18, il 18 mi hanno detto che sarebbero arrivati, poi ho scoperto che erano già arrivati, a me non era stato detto nulla. E quindi io ho detto che mi sarei dimesso. Il 22 di settembre in sede di Consiglio Comunale ho comunicato che se, come era confermato la presenza di queste persone, perché stiamo parlando di persone... Certo. Mi sarei dimesso. Così ho fatto venerdì, dopo aver svolto l'ultima giunta, alle 12.30, alle 12.50 ho presentato al protocollo comunale le mie dimissioni irrevocabili. Uno in Italia che dice che si dimette e lo fa subito. Irrevocabili perché? Irrevocabili perché noi abbiamo, nonostante le leggi che preveda che ci siano 20 giorni per ripensare, il sabato la mia maggioranza ha dato le dimissioni anch'essa e quindi è stato sciolto il Consiglio Comunale per mezzo del signor Prefetto e mi è stato notificato che tutto il Consiglio è sciolto e il lunedì mattina si è presentato il commissario con il quale mi sono incontrato anche stamattina. E quindi si andrà a votare? Si andrà a votare, si anticipa di un anno di fatto, io sarei scaduto nel 2017. E a Sant'Angelo Lodigiano, rivediamo l'articolo di giornale, quest'uomo che è il sindaco è letto un sacco di volte, avete capito che se uno… E' un sacco di difetti anche io, eh. Ma ne sono sicuro, però anche il difetto di prendere tanti voti, che è un pregio in una piccola comunità, vuol dire che ti amano. Allora il punto è questo, ha detto che si dimetteva per l'arrivo di questi profughi e l'ha fatto, ma adesso non è che arriveranno profughi da tutte le parti, perché essendoci il commissario si autorizza… Guardi, secondo me il commissario è una persona di buon senso, io lo conosco e non credo che si sbraghi a questo punto. Quello che mi dà fastidio e che mi ha portato a questa triste decisione, veramente sofferta, perché vent'anni da sindaco non è che uno si mette lì a fare il qua qua da qua e vedere il biobao che gira, è questo. Io quando emetto un'ordinanza e i signori sindaci lo sanno, c'è scritto contro il presente provvedimento si può ricorrere al signor prefetto, al consiglio di Stato, al giudice di pace, persino al signor Presidente della Repubblica e questo qui invece nessuno, io non posso ricorrere contro nessuno, mi arrivano e basta. Ripeto, persone che hanno diritto a una dignità e a un rispetto e a un futuro che oggi noi non siamo in grado di assicurare, perché fra un po' questi dove andranno non è possibile che ci siano mesi e poi mesi per identificarli e per vedere se hanno i requisiti per essere considerati rifugiati. Cosa ne pensate di questo ormai ex sindaco? Ma si può ricandidare? No, in questo momento no perché è al secondo mandato, salvo che cambino la legge, ma io in questo momento, mi scusi, è una cosa meno opportuna. Qualcuno poi dice che non ci sono i conti in ordine, non è vero, ci sarà il riequilibrio che verrà fatto. Benissimo, cosa ne pensate di questa persona che lascia per una questione di coerenza a questo punto? Sbaglio? Sì, non sono certo, non ho certo l'ascendente conilio, ma per una battuta, cercando se è possibile sdrammatizzare, il mio segno è leone, ma credo di averlo dimostrato in tutti questi anni, con tutti i miei limiti. La gente cosa le ha detto? La gente mi ha detto, ha fatto bene, quelli che me l'han detto, altri penseranno sicuramente il contrario, altri come quelli che non erano in maggioranza dicono che la questione è un'altra di tipo finanziario. Io sono stato criticato per tutti gli anni precedenti, da quando c'era la lira ai primi dell'euro, perché avevo avanzi miliardari e questa volta invece c'è qualche sofferenza perché lo Stato ha tagliato al mio comune circa 700 mila euro di trasferimenti e con dei decreti del Tribunale dei minorenni, gli ultimi ho fatto due cifre, sono 240 mila euro pagare per 17 minori e due genitori che vanno in strutture con l'affidamento, ditemi voi o abbiamo la sfera di cristallo o chiamiamo il mago Telma per quadrare i bianchi. No, il mago Telma no, qualche altro mago. Mi scusi, ho fatto la pubblicità. No, no, ma che pubblicità? Mi permetta di... Mi scuso. Sant'Angelo Lodigiano il mago Telma durerebbe 15 minuti in tutto. Allora, cosa ne pensate di questo sindaco, me lo dite, senza filtri allo 02386 02359 e poi ci raggiungeranno degli altri ospiti. Velocemente, cosa ne pensa lei del fatto, venga con me, venga con me, del fatto che dobbiamo andare da dormire a questi profughi, quindi un bel postoletto, il materasso e tutto e poi li dobbiamo garantire per convenzione, aspetta il suo bel cuscino, li dobbiamo garantire per convenzione, prima colazione, pranzo e cena e qui abbiamo tutte le cose che dobbiamo spendere ogni giorno per una persona e per fare, uso il frigorifero per fare un esempio, prima colazione, pranzo e cena, materasso, lenzuola, cucino, federe, coperte. Abbiamo anche tutto quanto per lavarsi. Gli dobbiamo dare... Allora, lei a Sant'Angelo Lodigiano ce l'ha la gente che muore di fame? Ma io a Sant'Angelo Lodigiano ho persone che hanno difficoltà e per le quali mi trovo veramente in sofferenza quando, dico agli uffici, di allungare un buono alimentare da 25-30 euro perché... E glielo dico io... Cioè Sant'Angelo Lodigiano, terra di lavoratori... Terra di lavoratori... Terra che insomma... È sempre stata, per via degli ambulanti, commercianti, un paese molto ricco, mi creda, noi abbiamo 11 sportelli bancari su 13.195 abitanti. Mi trovo in difficoltà perché dobbiamo dare il buono, al di là dei contributi, che possono essere quelli per il pagamento delle utenze o quant'altro. La difficoltà maggiore però è quella sugli sfratti o gli slogi. Gli sfratti, naturalmente, noi sappiamo tutti che sono quelli che hanno un contratto d'affitto, lo slogio è quelli che sono stati privati perché non pagando il mutuo per aver perso il lavoro o quant'altro. Io avevo davanti la settimana scorsa, prima che mi arrivasse questa conferma, un signore con due figli, con una disabilità, mi ha detto che dormirà in macchina oppure andrà da un'altra parte a occupare gli alloggi. Io a questo cosa dico... Scusi, mi mancava anche la tessera telefonica che dobbiamo dare... Sì, io a questo cosa dico, faccia domanda e di fatti nell'ultima giunta, come le ho citato poc'anzi, qua del 25 di settembre, abbiamo deliberato il bando per le domande che partiranno domani mattina, le domande per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lei sta roba preferisce darla ai suoi, con cittadini bisognosi, che magari hanno aiutato a riempire le casse del comune quando potevano farlo, o a quelli che vengono da fuori, o è un mangia-mangia? No, allora, io preferisco nel limite del possibile darlo a meno persone, perché vuol dire che siamo in grosse difficoltà. Le persone non vengono catalogate né dal colore né dal luogo di provenienza. Questo le fa onore. No, ci mancherebbe altro. Molte volte mettiamo mano alle nostre tasche. La questione qui non è, ripeto, né di religione, né di colore della pelle, né di provenienza. Non decidiamo noi da dove possiamo nascere, o anche i nostri figli in Italia. La questione è che siamo in piena crisi, che che se ne dicano le statistiche, che io le ho davanti queste persone. Oggi Renzi dice... Quello che mi fa specie sul Presidente del Consiglio è che è stato sindaco e dovrebbe ricordarsi, forse in una città non è come da noi. Sarà altra pasta, altra generazione. No, si vede che non ha il contatto diretto come noi. Si accomoda qua con me, insomma. Quindi, diceva, non è un discorso... Scusi, è un copertone, ma queste sono le barricate. Se resiste il mio peso? Ma certo che resiste. Credo che sia un copertone di un'auto, quindi resiste molto. Ripeto, uno che dice mi dimetto e lo fa, ridatemi quegli articoli. Questa è la persona della quale avete letto in questi articoli. Pronto, buonasera. Io dal popolo. Come si chiama? Io sono, troppo, a tutto il telefono da Milano. Dica, dica velocemente. Questa propria emissione è forte e chiaro? Sì. Roberto? Sì, è già in diretta. Ecco, sentami più complimentare con questo sindaco di lui. Sono arrivato adesso e non conosco il nome. Però vorrei che tutti i sindaci la pensassero come lui. La ringrazio molto. Ecco, è arrivata già una prima telefonata di complimenti per il gesto. Si vede che è uno che ho comprato, senza offesa. Non è un bel gesto. Penso che c'è anche della sofferenza personale. Sì, però può essere interpretato anche diversamente, l'ho detto, per l'aspetto finanziario o per la paura. L'ho fatto perché non ne potevo più. Pronto? Buonasera, passate subito in diretta. Come si chiama? Mi chiamo Furiori Giovanni. Giovanni, dica. Giovanni è già in diretta, può parlare. Mi complimento con il sindaco per la sua scelta. Va bene. Ha altro da aggiungere, Giovanni? È stato grande. È grosso. Va bene. Grazie. Ci scherza su, ma io so che c'è tanta sofferenza dietro un gesto del genere. Pronto? Buonasera. Abbassate il volume del vostro televisore perché parlate subito in diretta. Pronto? Sì, buongiorno. Sto vedendo forte e chiaro. È già in diretta. Come si chiama? Esatto. Sono Ivalo Zilli, consigliere comunale di un piccolo comune dell'Odigiano. Sì. Come si chiama il suo comune? Belletti. Perfetto. Ecco, io sono, di là sto vedendo una persona estremamente corretta, come Domenico Presti, che è un po' distante da me, che sta contestando, sta contestando, tra città altro che dimostrando che è ora di finirla, che i prefetti diano ordine dei sindaci e che i prefetti quando vivono coinvolti non facciano un cavolo. Io non sono né irritato né niente. Devo solo esprimere, devo solo esprimere che i prefetti, figure che non servono a niente, che quando li interpelli si nascondono e dimenticano forse che queste persone il 25 di aprile e il 4 novembre si presentano alla manifestazione per la giornata della libertà e il 4 novembre quando si fa la commemorazione dei morti, siccome ho avuto uno zio morto in guerra per salvare l'Italia, questo dovrebbero vergognarsi solo di... La ringrazio, c'è una differenza tra lei e lui, lui lo chiama signor Perfetto, ha rispetto del tutto, cioè è la sua un'opinione. Pronto? Alla prossima, prossima telefonata, pronto? Sì, pronto, salve. Come si chiama? Mattia, volevo ringraziare il sindaco. Perché? Eh, perché ha fatto un gesto veramente importante. Pronto? Sì, sì, la sta ascoltando, eh. Ah, sono in diretta? Sì, perché lei lo chiama gesto importante. Ok, pronto, niente, volevo solo dire. L'ha già detto, un gesto importante, le ho chiesto perché un gesto importante? Perché con questi problemi, poi nessuno alla fine pensa in Marò. Va bene, grazie. Lei me la butta sui Marò? Allora, facciamo entrare altri due ospiti, questa è l'anteprima perché poi il dibattito su altro, ma me lo ricordavo quando l'avevo incontrato in piazza, no? E so che una persona rispettosa delle istituzioni e tutto mi aveva meravigliato la cosa e l'ho voluto qua. E neanche ci siamo parlati prima di sto fatto. Allora, Angelo Ciocca della Lega Nord, buonasera Angelo. Buonasera, buonasera. Resta qua in piedi vicino a me, che sei giovane. Voglio complimentarmi con questo gesto eroico e coraggioso. Lo diciamo dopo le cose, le bandierine le mettiamo dopo. Deve far riflettere, deve far riflettere. E sta zittonati. Mirko Rota della FIOM CGL, buonasera Mirko Rota. Buonasera. E allora, tutte le considerazioni le facciamo dopo. Avete ascoltato dietro le quinte questa storia qua. E poi mi dite, cosa stai misurando la sedia? Tanto voi della FIOM siete abituati alle poltrone scomode. Non ci dimettiamo di solito. Nonostante tutto non ci dimettiamo. Affrontiamo i problemi e facciamo il battaglio. Va bene, allora dopo la pubblicità ne parlo anche con voi. Restate qui, a tra poco. E siamo sempre alla nostra anteprima. Naturalmente poi inizia il nostro dibattito. ho voluto, ridatemi gli articoli, il sindaco, ex sindaco di Sant'Angelo Lodigiano Domenico Crespi, che come hanno riportato tutti i quotidiani, sostanzialmente ha lasciato. Ha lasciato perché gli arrivano otto profughi. Non ce l'ha con i profughi, ce l'ha con il sistema. Avete sentito che mette i sindaci di fronte al fatto compiuto. Poi c'era di mezzo anche in passato una onlus di... Sì, è una provincia di Lecce, cioè voglio dire... È una onlus di Lecce che fa accoglienza a Sant'Angelo Lodigiano. Voi sapete che Lecce e Sant'Angelo Lodigiano sono a pochissimi chilometri di distanza, quindi a Sant'Angelo Lodigiano hanno bisogno dei leccesi per fare le onlus e buonanotte. Però questo è un altro tema. Che ne pensa Rota della Fio? Fuori dai denti, così come l'hai sentita? A me sembra una cosa sorprendente. Quanti abitanti ha a Sant'Angelo? 13.000? 13.195 al 31 agosto. Adesso non è che spostava il problema. Uno che fa il sindaco deve avere anche l'attenzione per affrontare i problemi. Dare le dimissioni mi sembra una roba davvero assurda, a meno che ci sia dietro questa mossa un'operazione politica. Però le operazioni politiche non le si fanno sulla pelle di quelli che hanno bisogno. Ripeto, se uno vuole fare il sindaco, amministrarne 13.000 o 13.008 persone. È operazione politica? Sì o no? Io sono sindaco di lista civica dal 1993. Operazione politica, ho solo le mie iniziali. Ho detto senza fare pubblicità, sono DC Domenico Crespi. 8 abitanti in più non cambiavano? 13.000 o 13.008 non cambiavano? No, ne abbiamo già 2.344 di stranieri e questo discorso, ho detto, non è una fuga. Ho dichiarato prima che ci sono difficoltà e criticità in un bilancio che va riequilibrato. Il discorso è l'imposizione che viene dall'altro, per la quale noi sindaci non siamo in grado di... C'è un limite a tutto. Io non sono disponibile a pagare tutti i prezzi, altrimenti avrei fatto un'altra carriera. Angelo Ciocca. Ma io invece apprezzo, perché penso che i sindaci hanno provato in tutti i modi a dare i segnali a Renzi e alle prefetture, perché adesso si pensa che la colpa sia delle prefetture, ma è il governo centrale che scarica il problema sulle prefetture, obbligando e ricattando i prefetti a scaricare il problema sul territorio e sui sindaci. Quindi la responsabilità si chiama Renzi, la responsabilità si chiama Ministro Alfano, che scaricano e usano i prefetti per fare questa operazione. Tutti i sindaci ci hanno provato a dire, ma siete in grado di spiegarci che intenzioni avete sul nostro territorio? Ci mettete in condizione di capire, perché noi abbiamo cittadini alla porta che urlano bisogno di alimenti, bisogno di coperte, bisogno di tetti e non abbiamo la possibilità di dare risposte, perché la situazione di emergenza dei comuni è altissima. Abbiamo cittadini appunto che pressano, che picchiano alla porta del comune per avere risposte, e poi gli stessi cittadini vedono che a loro le risposte non arrivano, mentre ai clandestini le risposte arrivano, prendendosela con chi? Con chi è in prima linea, perché è quello che bisogna mettersi in testa, che il sindaco è in prima linea, e quella responsabilità all'arrivo degli otto clandestini si scarica sui sindaci, non su Renzi. Sindaco, tirate un ballo in un dibattito così, ti trovi, ti ritrovi, o hai detto quello che hai detto? No, ho detto quello che ho detto e lo riconfermo, dunque io non so se sono clandestini, se sono aventi diritto, richiedenti o meno, io li chiamo sbarcati, ma con molto rispetto, perché sappiamo che sono arrivati, sappiamo in generale, che sono arrivati con degli scafi, con degli scafisti criminali, con degli scafi che poi dobbiamo aspettare per demolirli, immediatamente li affondiamo vuoti e per queste persone non c'è più emergenza, benedetto Dio, ma credetemi, noi il GPS, il satellitare, il navigatore, i cellulari, sanno tutti dove siamo ogni minuto del giorno e vengono a dirmi che dieci anni non riusciamo a intercettare i barconi da 130 a 140 metri, ma scusate. Mirko, e poi ancora un paio di telefonate e poi passo al tema della trasmissione. Ripeto, a me pare una roba davvero assurda che un sindaco si dimetta quando ha 13 mila abitanti, ha un sacco di problemi e gli si chiede di gestire otto casi, otto situazioni, otto disperati. Faccio una domanda, ma se nel suo comune un'impresa, una multinazionale, avesse chiuso e ci fossero stati 100 licenziamenti, cosa avrebbe fatto? Cosa ha fatto in questi anni? Nel suo territorio non ha mai chiuso un'azienda? Non ci sono mai stati licenziati? Ecco, perché non ha fatto una protesta esemplare quando licenziano e mettono sulla strada dei cittadini? Noi abbiamo avuto delle aziende in quei territori dove c'era la riunione dei sindaci che non muovevano un dito. Ecco, sui profughi invece si dà le dimissioni. Quando chiudono le imprese, però l'impresa è libera di fare, però cosa possiamo fare, ma non possiamo fare tanto e via dicendo. Ma si vede che il signor Rota non conosce il territorio. Non lo conosco bene, guardi. Io sono stato in prima... Non lo conosco molto bene, se vuole le racconto anche tutte le vicende dell'Odiziano. Una per una, guardi. Sì, sì, guardi. Nessun problema. Io sono stato in prima linea per Graffiniana, per Castiera Gavidardo... Ha chiuso la Marcegaglia e non avete detto bah. Ha chiuso la Marcegaglia, bah. No, io c'ero. Io c'ero. Se eravate a fare nulla. Alla riunione. Se eravate a fare nulla. E lei cosa ha fatto? Ho fatto gli scioperi, ho fatto una lotta... E che cosa ho ottenuto? Ho mantenuto i posti di lavoro che sono riuscito a mantenere. Io la lotta non la faccio a parole. Dando le dimissioni. Ho dimostrato di non essere attaccato al cadreghino e all'indennità per nulla. Perché non ha dato le dimissioni quando chiudeva Marcegaglia, scusi. 50 a piedi, a spasso, quando hanno chiuso sempre a Lodi, hanno trasferito un'azienda nel Bergamasco e da altre parti che era la Snyder, lì abbiamo avuto una serie di chiusure. I sindaci non hanno detto mezza parola. Ne arrivano otto a Sant'Andro, l'Originale, bisogna dare le dimissioni. Date un po' di dimissioni quando chiudono le fabbriche. Ma guardi, dovevamo fare lo sciopero allora l'11 di settembre del 2001 con le Torri Gemelli. Ma cosa c'entra lo sciopero del lavoro? La protesta è quando chiudono le aziende. Ma io sono sempre stato in prima linea su queste cose qui. Ma non l'ho vista, non so qual è la linea. Eh, scusi, probabilmente avrà problemi di diotrie. No, no, fatti via. Perché a non vedermi... Va bene, ma io penso posso dire nessuna cosa. Va bene. Ma un attimo, Angelo, devo sentire un paio di telefonate e poi salutare il sindaco, perché io l'ho voluto qua solo all'anteprima per raccontarmi questa cosa, poi lo rivedrò volentieri. e il mondo è piccolo. È pronto? Buonasera. È in diretta. Buonasera a lei. Sono Antonino, chiamo dalla provincia di Monza. Cosa vuole dirmi Antonino? Senta, io volevo, stavo ascoltando il dibattito, non so, il sindaco di... Sant'Angelo Lodigiano, dica. Secondo me si è dimesso per una questione politica. perché comunque, come dice il signor Rosa, dove era prima quando... Le persone che erano sono senza tetto, che perdono il posto... Chiaro, grazie per la sua opinione. Grazie per la sua opinione. Devo agganciare, perché passare un'altra telefonata. Ho proprio i secondi contati, eh. Sempre allo 02386 02359. Poi vi dico, passate direttamente senza filtro in onda, eh. Anzi, mi dicono proprio... Dovrei farcela in pochi secondi, eh, perché poi devo veramente andare in pubblicità. Pronto? Buonasera, come si chiama? Buonasera. Come si chiama? Sono Leone. Sono Leone. Buonasera, sono Leone, chiamo da Bergamo. Lei come la vede? Sono le sue rota, che si provoca a fare sindacalista e non venga a prendersi a col sindaco e a roba del genere. Che impapi un po' l'educazione. Io sono bergamasco e non condivido niente di quel signore lì. Di rota, va bene, chiaro, grazie. Grazie, rota però parlando di lavoro, poi non entro nei toni che ha usato. Rotta parlando di lavoro ha fatto il suo lavoro. È un sindacalista e ben venga, perché io vedo i sindacalisti che parlano di tutto, anche in televisione e in giro, tranne che delle fabbriche che chiudono e delle robe che dovrebbero fare. Non per difendere rota, no. Perché me la prendo con le aziende che chiudono, non col sindaco. Sto semplicemente dicendo che di fronte a un comune che ha 13.000 abitanti, 13.000 erotti, riceverne 8 non mi sembra una cosa complicata. Va bene, va bene. Fermati, ciocca, fermati. Allora, sindaco, non c'è più tempo. Se le do 10 secondi, giusto perché mi sta molto simpatico. La ringrazio molto. Consiglio Rotta, non voglio certo inserire una discussione sterile e basta. Le dico solamente questo. Io ho fatto il debattaglie, prima per il patto di stabilità, che non ci consentiva di pagare e le imprese aspettavano 3-4 anni. L'altro è lavoro e casa. Se abbiamo questo, abbiamo lo sviluppo. Con le chiacchiere e con i flash, sarebbe un po' come se andassi a fare la pubblicità delle diete. Va bene, avete sentito l'unico in Italia che ha detto vado fuori dai coglioni e l'ha fatto. Sì, lasci stare il linguaggio. E quello ce lo metto io, no? Lei non ha detto questo, ha detto mi dimetto. Però uno, finalmente, in Italia, che dice me ne vado ed è coerente. Poi sarà stato esagerato, non lo so, giudicate voi. Porta a casa anche una parolaccia stasera. No, ma resti che mando la pubblicità, la sigla. E poi arriva un altro del PD al suo posto perché devo fare il dibattito. Nessuno è perfetto. Lo so. Perché devo fare il dibattito. Io sono DC, quindi come Domenico Crespi, sempre, non farò in tenda. Che personaggio. Grazie, ci vediamo dopo la sigla. Grazie.